anti-intensi, ed è questa fusione fino ad arrivare al dipinto numero 8, opera che lui intitola Reperto archeologico, dove come sempre c'è un riferimento potente alla storia più antica come l'archeologia in questo caso. E c'è questa ricerca, questa ricerca di questo volto che appartiene all'archeologia, che nasconde chissà quali connotati, ed è l'opera numero 8, poi per passare al numero 9. Attenzione al numero 9 perché è un quadro di quelli che mi ha colpito in maniera particolare, quest'opera che lui intitola Lo sguardo. Ora, di fronte a un'opera come questa, dove i colori si amalgamano fra loro, dove c'è una centralità della pittura stessa. Questa volontà del maestro Bovedi intitolare un quadro come questo, Lo sguardo, così attento, è un cuore pulsante al centro del quadro, che pulsa, che ovviamente racconta vita, come sempre nei quadri di questo uomo. E questo è il numero 9 in visione. Poi, il suo rapporto così potente e importante con la religione. Fa sì che in questo quadro si racconti un Cristo in croce, con una croce vera, in legno, scolpita e ancora incastonata nella tavola stessa, con questo Cristo che appare. Devo dire anche nei libri, nei cataloghi che poi vi farò vedere con più canna, c'è questo riferimento alla religione, al Cristo, alla luce divina nella parte alta. Davvero qualcosa che non si vedeva da molto tempo. Molto tempo. Uno dei grandi pittori maledetti, come Nietzsche, aveva addirittura osato dipingere il Cristo sanguinante nei suoi quadri. Ma questo è veramente un momento in cui capisci quanto sia la pittura oggi che abbia bisogno di collegionismo di quadri come questi. Davvero favoloso. Un rispetto incredibile per la figura del Cristo, unita a questa grandiosa energia pittorica del Maestro. Bellissimo quadro. E poi, numero 11, invece, andiamo a vedere un ritratto, un ritratto che un uomo nato e cresciuto a Napoli non poteva non amare come il principe De Curtis, che vediamo ritratto dal Maestro Bove in questa bellissima, grande opera, ed è il numero 11 in visione. Nel numero 12, che si trova più basso, un dipinto più piccolo, ritroviamo questa sintesi del colore, come in questo caso. Vediamo attentamente comparire. E nel numero 13 troviamo uno di quei personaggi che, ad esempio, Ottone Rosai amava tanto, erano questi personaggi che si incamminavano verso un sentiero di luce come lui. E questo personaggio con il bastone che ha un romanticismo, un'eleganza, una bellezza e una poesia davvero favolosa. Un altro quadro che mi piace molto ed è il 13. Il numero 14, poi, in questi due dipinti, il 14 e il 15, il maestro Pasquale Bove cosa fa? Analizza le stagioni. Con che cosa? Con i colori di queste stagioni. Dall'autunno, l'inverno, la primavera e l'estate. E qui, ancora una volta, ti fa capire quanto questo uomo possa dipingere qualunque cosa. Io, non vi nascondo, quando lavoravo per altri, quando lavoravo per altri, non quando ho acceso la mia bella rete, ho passato la mia vita a vendere artisti che dipingevano campi di papaveri, fiorellini, fiorelloni, chiaro? E credo di avere davvero venduto questi quadri a mezza Italia. Quando poi, invece, a dipingere questi paesaggi, queste luci, questi momenti così importanti, è un artista così intenso come lui, le cose cambiano. Perché anche un campo di papaveri così acquista una forza che davvero altri non hanno. Ed è questo, sono i 14 e i 15 che contengono in realtà due quadri ognuno. Poi si passa al numero 16, dipinto che lui intitola divieto d'accesso. Con tanto diffusione del colore nella parte alta e un chiaro ed evidente segnale di stop di divieto d'accesso. E questo è il numero 16. Ricordo poi tutte queste opere rigorosamente pubblicate e molte commentate da grossi critici. Questo è il 16. Per poi arrivare al dipinto numero 17. Questo dipinto che racconta questa splendida figura di donna. Avete sentito poc'anzi il grande rispetto del maestro Bove per le donne e di quanto poca importanza gli si dia e poco rispetto in molte occasioni. Questo è un grandioso quadro dove questa donna è come se fosse investita dal colore, una sorta di estasi cromatica. Veramente bello. Mi piace molto questo quadro del 17 per poi arrivare al numero 18 che è questo che si intitola Acqua su Marte. Qualche anno fa venne fuori questa notizia in cui avevano trovato la possibilità di avere dell'acqua, che ci fosse dell'acqua sul pianeta rosso. E tutto ciò che affascina l'universo, i pianeti in questo pianeta Marte e l'acqua su Marte fa sì che questo quadro sia uno dei dipinti pittoricamente più forti, più incredibili. Ed è questo grande quadro, il numero 18. Poi cosa dire, grazie Alessio, del numero 19. Il numero 19 è qualcosa di pazzesco. Io sono convinto. Credo che vedendo i quadri del maestro Bove, penso che sia chiaro perché il motivo per cui è stato invitato alla prossima Biennale di Venezia, il motivo per il quale vince a Spoleto, uno dei più grandi momenti di collezione, ma questi sono momenti che mi fanno capire che è sufficiente guardare il quadro. Perché quest'opera che lui intitola, attenti al titolo di questo quadro, si intitola Ballata Materica. È come se a un certo momento i fiori e quello che è la natura cominciasse in una danza vorticosa che fa sì che tutto sia incredibile, incredibile movimento. È una cosa meravigliosa. Perché il quadro non si limita ad essere soltanto queste magnifiche gocciolature di colore, ma c'è un lavoro nel profondo che dubito riusciate a vedere in televisione. Di materia, di legni, di spessori. È qualcosa di fantastico ed è questa Ballata Materica. Gran quadro, il numero 19, per poi passare a qualcosa che ovviamente lo riporta alla sua infanzia. Avrei sentito poc'anzi il maestro Bovi dire che lui dipinge da 70 anni e il primo soggetto, la prima pittura da dove partono tutti poi è la pittura figurativa, la figurazione classica, è la figura del clown, questo personaggio triste ma innamorato della vita. E questo è il clown del maestro Bovella numero 20 che ci si riporta ovviamente alla prima pittura del maestro. Questo è il 20 dal titolo Il Mendicante. Vedete che è finito lo spettacolo. Dopo lo spettacolo raccoglie il denaro di chi glielo vuole offrire ed è il numero 20. Poi il numero 21 si intitola Extraterrestri. Extraterrestri. Vedete anche in questo caso torna ovviamente il concetto dell'oltre, ciò che è terrestre, ciò che è veramente altro momento favoloso di Biello di Cromier, fino al rispetto e al grande amore per lo sport che lo porta a dipingere questo quadro dedicato al grande Marco Pantani, cioè il grande ciclista. E allora come poter omaggiare il grande Pantani con questa immagine del grande ciclista, vedete si vede il profilo sulla sua bicicletta con questo colore, tra l'altro ritagliando questa sagoma e poi applicandola sulla tavola. Ed è il grande dipinto numero 22 dedicato a Marco Pantani. L'opera in visione dunque è la visita e poi passare a questo grande quadro che è il quadro che tra l'altro il maestro Bove ha scelto per poter iniziare questo percorso, iniziare la nostra intervista di questa sera. Ha scelto questo perché voleva dare un'immagine precisa. La figura del clown è una figura davvero enigmatica. Da bambini quando andavamo al circo, da piccoli era la figura che più amavamo, più di qualunque altro, più dell'attreti, piuttosto che dei cavallerizi, piuttosto che chissà quale altre cose gli amavamo del circo. Il clown è la figura che da bambini ci affascinava da sempre, che poi da grandi però diventa la figura che più guardiamo un po' con melanconia, con amarezza. Ed è bellissimo questo quadro perché racconta tutto un percorso di vita. Gran bel pezzo ed è il numero 23. Per poi passare al numero 24, Alessio. Ecco, dedichiamo ancora qualche istante a questo quadro, sono d'accordo. Passare dunque al numero 24 che è questo, Fiori sul mondo. Un dipinto che lui intitola Fiori sul mondo. Un piccolo quadro, ma dalle norme il significato come sempre. E poi il numero 25. Ecco che la grande pittura del maestro Pasquale Bove si riporta al classicismo in questa composizione. per poi passare al numero 26, una figura materica forte come quella e intensa, l'espressione forte e intensa come quella che racconta, per arrivare poi a questi tanti volti, espressioni, come nel titolo del grande quadro numero 27. E questo è l'altro lavoro intenso del maestro Bove, per poi trovarsi di fronte a un capolavoro come il numero 28, che a me fa veramente riflettere pensando davvero a tutti gli artisti che conosco e dei quali parlo ogni giorno con voi e con altre persone. Dove qua c'è un intreccio di colori, di materia, di vortici veramente incredibile. E chissà se vi siete accorti della figura che fuoriesce all'interno. viene in mente uno dei grandi artisti, che ho sempre amato della pittura astratta e informale, che non potevano fare a meno di inserire anche qualcosa di impercettibile legato alla figurazione, una sorta di rispetto della storia e di quella che è la figurazione stessa. Questo è un quadro formidabile. E' proprio il sentimento più puro del maestro Bove. Questo era il numero 28. Per passare poi al numero 29. Questo mi piace molto tecnicamente. E' la scelta di quest'opera che lui intitola Frammenti, dove troviamo tre situazioni delle diverse misure, dove il colore ovviamente segue una forma. Ed è il numero 29. Poi due icone piccole, ma con la stessa forza e intensità, sono il numero 30 e il numero 31. e a seguire il numero 32. Cosa mi dite di questa danza? Siamo adesso sul 31. Questa danza nel fuoco racconta l'inferno dantesco. Guardate che cos'è questa figura. La vedete? Che danza in mezzo a questo vortice. Che quadro, amici? Che quadro è questo? L'inferno dantesco. Ed è il numero 32. Per poi arrivare al numero 33. Questa divisione tra la bocca e il cervello. Ai, 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 ai. È pesante questo quadro, eh? Quante volte molta gente prima di parlare dovrebbe pensare. Eh beh. Ci sono degli attacchi molto duri da parte del maestro. Bove ha certe cose che accadono e questo è uno di quelli e mi piace molto. La verità vince sempre la forza poi espressiva di un artista come questo. Questo è uno dei quadri più piccoli, ma forse uno di quelli più intensi. è proprio un messaggio. Poi il numero 34 è questo Cristo morente pubblicato più di una volta. Un quadro intenso e forte come al solito nella pittura del maestro Bove, ma in questo caso ancora più forte. Per poi passare al numero 35. Porta una figura. Gli occhi, il naso e la bocca. Immersi in questo incredibile luce e colore. Passare poi al numero 36. dove la composizione, la frutta in questo caso, viene invasa dal colore stesso intorno. È quasi scomposta dal colore stesso. C'è una contaminazione pazzesca. E poi il numero 37. Il numero 37, 38 e 39 sono quei dipinti che lui intitola Inconti. Poi andiamo a vedere il numero 40. Ancora un Cristo in croce. Per passare al numero 41. Questo mi piace un sacco. Vorrei che forza che ha questo colore. Andiamo sul 41 in alto. Per ritrovare questo 41 che lui intitola Il Cigno. Bello da impazzire. È un cigno. Gran bel quadro. Poi il numero 42. Una figura mistica. e il numero 43. E il numero 43. Dal titolo Esplosione. E poi il numero 44. Una fusione astrale. Una fusione astrale. e il numero 45 di cui chiedo un fermo d'immagine. Andiamo sul 45. Chiedo un fermo d'immagine. Passeremo tra poco al numero 48. Il numero 48, che vedremo tra poco, è forse uno dei quadri che al meglio rappresenta quello che è il titolo di questa mostra così importante. Perché l'opera si intitola L'infinito. E al centro di questo quadro c'è un punto interrogativo. E questo è decisamente il cuore di questa commissione, di questa bella e importante mostra che stiamo facendo a voi. Tra l'altro c'è una tale quantità di colore pazzesca e una crettatura del colore stesso. Tutto il quadro inizia da un punto interrogativo che poi ci fa vedere questo infinito, così ricco di colore e di crettatura, dato proprio dalla matericità del dipinto stesso. Poi il numero 47, che è questo, ed è una magnifica Maria. Una madonna dipinta dal maestro Bove, anch'essa invasa dal colore. Per passare poi al numero 49, e cioè al dipinto dove ritroviamo questa figura, quella del clown, anche in questo caso così forte, così enigmatica, senso dubbio. Dirò una cosa che probabilmente farà riflettere a fuori di voi, ma sicuramente Leonardo da Vinci non conosceva la figura del clown, ma sono più che sicuro che se Leonardo da Vinci avesse conosciuto i clown li avrebbe dipinti, proprio per questo loro mistero di sentimenti e di idee. Questo è veramente una cosa meravigliosa. E' il numero 49. Poi andiamo a vedere anche il numero 50, ed è quest'opera che racconta il romanticismo. Questo, il numero 50, dove il maestro Pasquale Bove ritorna a questo romanticismo a lui così caro e così importante, il numero 51, per arrivare a questo piccolo dipinto, che è il numero 52. Ah, scusate, prima il 51, il ciclo delle opere incontri, e il numero 52. Questo quadro dove lui racconta una figura che puoi intravedere tra il colore potente e forte dell'Atene, ma che puoi vedere anche tra queste gocciolature di colore importanti del numero 53. Ci sono già delle opere in conferma, sono delle vedere un istante, ho finito, sono rimasti gli ultimi due quadri, tre quadri e poi vengo da voi. Questo è il numero 53, poi il numero 54. Questo è il quadro scelto per essere rappresentato, infatti chi di voi lo prenoterà dovrà aspettare un po' di tempo prima di poterlo vedere, perché alcuni di questi quadri sono stati selezionati per la Biennale, quindi è evidente che non potranno essere portati a casa vostra, e altri vengono da questo importante premio a Spoleto, dove hanno partecipato il maestro Bove e ha avuto un grande successo. Un grande successo rettato da cosa? Dal fatto che noi, tutti noi, io, voi, abbiamo bisogno di verità in pittura. Ecco perché questa pittura vince sempre. E questo magnifico Cristo in croce, invaso dal colore, è qualcosa di incredibile questo quadro. Un rispetto per la religiosità, per la chiesa, e allo stesso tempo questo Cristo che riesce a domare le avversità di tutto ciò che accade. Questo è un altro dei quadri veramente incredibili del maestro Bove, numero 54, fino ad arrivare al numero 55. Ancora una figura, un profilo. Poi il numero 56. E il numero 57, il divino Dante, Dante Alighieri. Guarda, guarda che spettacolo, questo quadro e questi colori che lo investono a destra dall'alto verso il basso, fino a questo mosaico di colori che è il numero 58, che lui intitola Traccia Aerea. Bene. A questo punto siete voi a decidere. Questa è la Galleria Orlando. E Alessandro Orlando stasera finalmente può offrirvi, e non può capitare mai, uno di quei veri grandi artisti, quelli veri, quelli che nascono da un percorso autentico e che lavorano a un messaggio importante. L'avete visto poc'anzi. E tutte queste opere le potrete rivedere a casa vostra, dovunque abitate, quando avete tempo e voglia. Le potete vedere a casa vostra e solo allora decidere se acquistarle o non acquistarle. Ognuna di queste opere è pubblicata per corsi museali importanti e ancora per qualche minuto, se lo volete, riesco a farvi ridedicare o a voi o alla vostra famiglia o ai vostri figli o alle persone che amate. Dovete soltanto scegliere il quadro che potrebbe piacervi senza alcun impegno. Poi se l'opera vi piace l'acquistate e la pagate come volete, quando volete, in quanto tempo volete, con che sistema volete. Adesso se possiamo andare un po' più indietro con l'immagine per poter avere un'inquadratura un pochino più ampia di tutta questa bella pittura. Bella perché parliamo di un artista che dipinge dei sentimenti autentici in un mondo sempre più bugiardo. Io sono veramente stanco di dire a molti artisti che scrivono, offrendomi tanti soldi, Orlando vorrei che fossi tu a presentarmi. Davvero ti diamo 10 mila euro, 20... Orlando non è in vendita. Alessandro Orlando non lo è in vendita. Non potete pagarmi perché è impossibile. Orlando presenta solo quello in cui crede. E credetemi, in mezzo a tanti artisti che cercano di stupirci con effetti speciali, che poi alla fine sono soltanto dei fuochi di paglio, sono soltanto gente che compra per avere. Ma questo povero non ha bisogno di acquistare niente e nessuno. vuole soltanto continuare il suo percorso, un percorso di comunicazione, di quello che è la consapevolezza della vita che viviamo e dei mille problemi che affrontiamo, dove però c'è una straordinaria volontà di rivincita. E' questo che lo fa essere così forte e potente. Allora, chiedo scusa, ci sono delle opere in conferma da rivedere? Non lo so, da rivedere. Allora, adesso ascoltiamo la voce di Roberto. Nel frattempo è stata confermata l'opera numero 49 e da rivedere chiedono il numero 10 e il numero 14 e 15. Allora, andiamo a vedere 10, 14 e 15. Andiamo a vedere subito il numero 10. Ma che meraviglia! Questi sono quei quadri davvero incredibili. Vabbè, eccezionale, eccezionale. E poi ripeto, è il lavoro incredibile, la forza pittorica. Io devo dire che uno dei quadri davvero che più preferisco, più amo, senza dubbio, è il numero 1. Mi piace tantissimo quella danza. Poi dicevamo 14 e 15, giusto? Adesso le rivediamo. Allora, guarda, glielo faccio rivedere perché è uno dei miei preferiti. e lo faccio con molto piacere. Il 19 o 21? Guarda, vieni, vieni con me, vieni. Pianeta Marte. Questo quadro ha una profondità pazzesca, davvero. Credo di aver capito, da rivedere per Roberto, il numero 21. Poi, ditemi dove va questo quadro perché ci tengo molto. Quest'opera che lui, sì, è vero, è un quadro dimensionalmente importante, ma è anche un quadro di quelli che non smetterai mai di guardare, di scoprire qual è il segreto di questa grande opera del maestro Bobbett. Questo è uno di quelli destinati, esatto. Per cui, chi lo prenota non lo può ricevere subito, eh. Lo dico. Bellissimo, bellissimo. Da rivedere il 21 per Roberto. Lo rivediamo. È subito sotto. È qua. 14 e 15 conferma, grazie. Grazie. È in conferma. Grazie anche per questo quadro. Ora, ripeto, di fronte a tanti quadri che poi vi venderò in futuro, insomma, non da tutti i giorni. Tutti i giorni voi siete un pubblico molto attivo, molto presente. È chiaro che quando metterete in casa uno di questi quadri cercate di ricordare l'uomo che lo ha dipinto. Cercate di ricordare lui come persona e lui come uomo che ha questa missione precisa, no? Cioè quella di raccontare un presente per poi poter mostrare a tutti la sua grandiosa evoluzione dalla figurazione all'astrattismo. come questa New York sotto l'acqua, questo giorno di pioggia a New York. Bellissimo, bellissimo davvero quadro. E attenzione a non farvi sfuggire, ma un consiglio che vi do, non fatevi sfuggire l'opera che ha dato vita alla mostra, e cioè all'opera pubblicata, scusate, in copertura, che racconta proprio questo momento eccezionale. Io ne ho visti tanti di quadri che raccontano l'autoritratto di un artista, ma io lo trovo veramente geniale. È la prima volta che vedo un artista che si ritrae all'interno di una tavolozza. Questa è la simbiosi perfetta, direi. Sono questi i quadri eccezionali che veramente poi ti fanno capire, soprattutto quando poi scoprite a centralino a che prezzo ve lo porto a casa, un dipinto così, l'autoritratto di un artista, che decide di dipingersi al centro di una tavolozza. Che cosa è la tavolozza? Ovviamente è lo strumento di conversazione, lo strumento con il quale un artista poi si esprime. Davvero geniale. Seppure continuo ad amare anche molto… Alcuni amici mi stanno scrivendo, mi diceva Roberto, per avere un suggerimento. Difficile, difficile suggerimento. Io posso solo parlare… ogni quadro, ripeto, è un abito, lo dico sempre. Non tutti gli abiti ci stanno bene addosso. Bisogna provarli gli abiti, no? Ma questo è un quadro che sfida il tempo. Per questo mi piace. Mi piace molto. Veramente bello, veramente bello. Ma vi siete accorti di questa icona dove al centro c'è un cavallo che corre libero? E' ancora la bellezza di quest'altra icona, una sorta di finestra e le gocciolature copiose. Gran bel quadro, gran bel quadro davvero. Mi rendo conto davvero che ci sia l'imbarazzo, no? Per poter scegliere. Ma voi sapete bene, sapete come lavoro. Quindi tu puoi chiamare questo numero e dire Alessandro ne vorrei vedere più di uno, capire un po' il percorso di questo. Del resto è molto importante per capire, vedere più opere insieme. Io portarvi un quadro, portarvene due, faccio la stessa fatica. Quindi stanno squillando tutti i telefoni? Due nove. Arrivo, ecco, sì. Questo è eccezionale, eccezionale. Dimmi tutto. Ce l'ho, grazie. Grazie mille. E' cofida, è troppo. Grazie Alessandro. Vieni da me? Quello è confermato? Anche quello è confermato? Il 23 da rivedere, andiamo a rivedere un secondo. Sì, ma quel numero 3, l'autoritratto, prenotatelo. Puoi togliere questa qua e questa? Hai bisogno di entrare. Eh, lo so. Questo è sensazionale, questo quadro, davvero. Bello, bello, bello. E' importante e imponente, proprio come figura e come idea del crown. Veramente una cosa stupenda. Tra l'altro, per chi ha perso il numero 49, ho un gioiello da mostrare. Fermi lì, eh, non vi muovete. E' un quadro che non ho fatto vedere perché era una zona in cui non poteva, la camera non riusciva a raggiungerlo. Ma adesso ve lo vado a mostrare. Per chi ha perso il 43, è il 49. Questo qua lo chiameremo, non lo so che numero. Adesso ci arrivo. Ah, voilà. Guarda che bellezza è questo. Un po' più piccolo. Vieni pure Alessio. Perché è già stato confermato. Questo è un fuori catalogo, bene. Anche questo ho pubblicato. Un po' più piccolo è un 50-50. Stessa forza. Questa è veramente la bellezza di questo clown per il maestro Bove. E questa è l'opera. La chiameremo numero 57, 58, giusto? 59, 60. Meglio ancora, così non facciamo confusione. Più piccolo, ma con la stessa forza pittorica. Questo è il dipinto in visione. Ok. Poi, per chi ha chiesto di rivedere quei dipinti che, mentre io sto parlando, stanno arrivando telefonate, richieste anche via WhatsApp, chiedevano di rivedere gli incontri. Sono emozionanti gli incontri del maestro Bove con questi colori forti e potenti. Adesso ne andiamo a rivedere. A cominciare, non so se riusciamo a ritornare là, al numero 28 che era richiesto. 28 e 29. Sono due quadri particolarmente belli e forti. Gran bel quadro, gran bel quadro, davvero importante. Quanti pittori, giuro, che buttano davvero tanto colore sulla tela e fanno impazzire la gente. Ma avete ascoltato quest'uomo, io spero di sì, che abbiate ascoltato lui. Cercate di non dimenticare l'uomo prima dell'artista. Questo è un uomo davvero straordinario. Dicevo, prima di arrivare qua, è una di quelle persone che mio padre mi ha insegnato a capire di ascoltare. Perché sono quelle persone che non smettiresti mai di ascoltare per l'esperienza che hanno, per il rispetto per la famiglia, per il rispetto per alcuni valori di cui purtroppo a volte non si vedono più o non si ascoltano più. Quindi c'è tutto questo interessamento di questi ultimi anni che c'è stato nella figura di questo maestro. Parla appunto di queste mostre importanti, istituzionali, eccetera. È proprio da attribuirsi a questa voglia di riscoprire certi valori. Questo è fondamentale. Cioè quest'uomo è veramente l'uomo che comunica attraverso la pittura valori così importanti come quello della famiglia, come quello dell'amore per Dio, per il rispetto per la religione. E con tutti i valori davvero fondamentali, no? Questo è quello che richiede i vostri. Allora dovete aiutarmi con i numeri. In conferma numero 53. Grazie e complimenti. Allora, io devo far rivedere ancora una volta questi quadri. Siete ancora in tempo a scegliere quello che volete rivedere con più calma, con più attenzione. Sapete che siete voi a decidere quando e dove, o a casa vostra o nelle nostre gallerie. Venite a trovarci a Brescia o a Pietrasanta in Toscana oppure ve lo portiamo a casa in tutta Italia quando avete tempo e voglia. E ripeto poi, domani saremo in diretta dalla Toscana, lasceremo l'Emilia Romagna, andremo in Toscana a fare tantissime altre cose. Parleremo di antiquariato, di cose. Ogni giorno facciamo tante cose diverse per voi perché non dovete annoiarvi mai. Ma mi sia consentito dire, questa è la tradizione di arte moderna, di arte contemporanea e anche moderna, certo. Forse tra le più interessanti delle ultime che abbia fatto, proprio per questo messaggio magnifico che danno questi quadri, dove finalmente avete visto quest'uomo, l'avete sentito parlare e avete sentito parlare per lui alcuni dei più grossi critici di storia dell'arte. Giornalisti, uomini che non basta pagare e ti dicono qualunque cosa. Siamo pieni di prostituti del commento artistico, mamma mia, Dio solo sa quanto. I personaggi che avete visto sono persone che scrivono perché sono dei grandi professionisti. E vorrei davvero poter riascoltare, poi dopo faccio rivedere, le parole del professor Scateni, Luciano Scateni che parla di questo artista. Questo è, il professor Scateni è un grande giornalista della RAI, avete visto più di un'occasione in RAI commentare opere d'arte, poi si occupa di volumi, un insegnante d'arte, che quando parla del maestro Bove racconta davvero una delle cose più importanti che mi ha insegnato mio padre. Il mio padre mi ha detto, Alessandro ricordati, gli artisti che vincono e vinceranno sempre sono quelli che hanno un verbo autentico e che parlano di verità. Però la regia mi darà l'ok, sarei felice di potervi far ascoltare le parole del professor che adesso sentirete raccontare il percorso del maestro Bove. Pochi minuti e torniamo in diretta. Caro Pasquale, come sai ci separano 600 km perché tu hai lasciato Napoli, sei andato a Cesenatico, e allora per parlarti, per dirti quello che penso delle tue opere, che sono rappresentate in questo bellissimo catalogo che mi hai mandato, ho pensato di inviarti una lettera sonora, questa, che adesso ti leggo. Allora, nel tuo catalogo c'è una rassegna di opere che si propone come cifra complessiva del tuo impegno di pittore, come posso definirlo, fuori schema, e troverà posto nella mia libreria insieme a volumi dei più affermati autori napoletani, ma anche insieme ai libri di Candischi, di Picasso, di Dalì, perché lo merita. Sarà capitato anche a te, o è capitato a me, nel corso di una visita ai musei, di ascoltare commenti surreali, per esempio sulle opere di Picasso, del tipo, ma sì, quattro sgorbi sono capace anch'io di farlo. Beh, il fantasioso autore di questa idiozia ovviamente ignora il lunghissimo e ricco percorso compiuto da Picasso, dal sicurativo fino al cubismo e all'assaltismo. Chi avesse il privilegio di guardare un'opera recente tua potrebbe fare lo stesso macroscopico errore. Il peccato non veniale tuo è quello di aver lasciato la città vent'anni fa, però dai brevi dialoghi scambiati con i cellulari che ci siamo fatti, mi ricca state. D'accordo?